ciao a tutti amici e benvenuti sul mio canale youtube eccomi di nuovo con voi sono mancata qualche giorno perché ho fatto una piccola gita a firenze anche se ho trovato il tempo non proprio bellissimo quindi non vi ho proposto video e foto perché senza sole strano poi ogni volta che vado a firenze trovo nuvoloso anche lo scorso anno che sono andata presto a poco anzi no due anni fa sono andata a primavera a primavera ed ho trovato nuvoloso anche quella volta le foto con il sole sono tutta un'altra cosa sono belle lo stesso perché firenze magnifica però avrei preferito fare qualche video qualche foto con il sole bene ho trovato ho preso su come al solito da italy di italy a firenze la farina del molino marino soltanto qualche pacco perché avevamo il treno quindi immaginate e adesso però questo pilone con questa farina con la farina buratto macinata a pietra seguitemi allora la farina buratto del molino marino è una farina rigorosa che è una farina di macinata a pietra senza aggiunta di additivi o altre cose buratto significa abburattata che è setacciata una volta quindi è una semi integrale di tipo 2 e mantiene elementi del chicco di grano germi di grano ed altri elementi quindi è una semi integrale diciamo è molto apprezzata e molto buona profumata quando andiamo a cuocere il pane bene io adesso vado a mettere in autolisi le farine in questo modo io ho aggiunto ai 500 grammi 100 grammi di tipo 1 ma soltanto perché per arrivare al 600 non volevo intaccare il pacco mi voglio lasciare gli altri 500 per fare un altro tipo di pane tranquillamente la potete usare anche tutta per intero tutta la buratto naturalmente ok una volta bagnata bene tutta la farina così deve essere tutta umida quindi ho usato più della metà della parte di acqua ci metto passato il tempo l'ho lasciata in 30 minuti naturalmente coperta e vado a mettere la pasta madre pezzettini 120 grammi ho la dose della pasta madre di solito il 20 per cento poi nell'estate quando fa molto caldo si abbassa leggermente la percentuale qui ne ho messi 120 perché adesso le temperature sono diciamo normali se volete mettere i licoli vi metto poi nell'info box perché mi fate spesso queste domande io delle volte lo metto direttamente delle volte mi dimentico però c'è una tabella di conversione quella che usiamo quasi tutti di lievito madre naturale del blog lievito madre naturale usiamo tutti quella che è molto comoda quindi potete fare tranquillamente la conversione allora come avete visto sono andata poi a mettere in planetaria e ho messo l'acqua piano piano fino a metterla tutta l'ho messa lentamente e ho portato a incordatura o quasi diciamo io non non strapazzo mai molto quindi dieci minuti massimo 15 ma 15 sono anche troppi non è che dobbiamo andare lì a fare il velo è perché poi rischiamo di rompere la maglia glutinica anche perché poi ci aiutiamo con le pieghe che faccio subito qui e farò due giri due giri di pieghe in questo modo in ciotola ma se volete potete farli anche sul piano di lavoro potete fare slap and fold faccio riposare almeno mezz'ora e poi faccio l'altro giro ecco qua questo è l'ultimo giro di pieghe allora quando guardate volevo dirvi questo perché mi arrivano spesso delle domande anzi mi scuso se non riesco a rispondere a tutte però siete tante fortunatamente quindi qualche domanda mi scappa dovete guardare sempre il periodo la data perché c'è sotto il video quando io ho fatto il video se è caldo se è in estate o in inverno perché la lievitazione cambia e questo lo dovete valutare voi naturalmente ecco qua metto a lievitare per almeno 4 ore ed eccolo qua il mio impasto lievitato è stato all'incirca 4 ore quando vedete che ha raddoppiato il suo volume è quasi raddoppiato diciamo si è gonfiato potete procedere quindi lo verso sul piano di lavoro dove farò altre pieghe quindi non mi stanco di ripetere questa cosa se siete in estate magari anche un passaggio in frigo perché altrimenti con un'ora se ci sono 35 36 gradi cresce troppo e lievita troppo velocemente allora allargo un pochino questo impasto come vedete lo sento lo si vede anche ad occhio che è un pochino resistente quindi io ho fatto il 70 per cento di idratazione ma forse il 75 andava meglio però va bene io tendo sempre non sempre questa cosa non vado a fare altre idratazioni per ottenere i buchi mi piace più il pane diciamo con gli alveoli regolari però qui forse il 75 ci stava bene faccio riposare mezz'ora 40 minuti tra una piega e l'altra fino a fare l'ultima piega quindi farò tre pieghe bene passato il tempo naturalmente lo copro sempre con una ciotola rovesciata tra una piega e l'altra vado a formare il filone voglio fare un bel filone bello lungo perché metà poi lo devo regalare lo devo dare mio figlio allargo vedete ma questa penso che sia proprio il tipo di farina perché sono comunque farine tutte e due semi integrali allargo piano piano così e poi formerò il filone in questo modo questa volta cambio come di solito faccio diversamente qui piego leggermente così scusate inquadrato male ecco qua premo così e continua a piegare ok quindi la forma la formatura del filone comunque non necessariamente deve essere sempre uguale possiamo anche variare farla diversamente chiudo bene io adesso avrei bisogno di un cestino un po lungo adesso cerco voglio trovarlo sicuramente lo ordino su amazon perché ne ho due due tre ma non abbastanza lunghi tipo se voglio fare un filone con 700 grammi ad esempio non ce l'ho lo ordinerò quindi arrotondo un pochino così avete visto tipo ho fatto una sorta di pirlatura inquadro benino sapete che io faccio tutto da sola e quindi non ho un cameraman che mi aiuta nell'inquadratore scusatemi qualche imperfezione vedete che non ci va qui questo è quello più grande che ho non ci va ma voglio un pochino allungato quindi lo metterò direttamente dentro una teglia in un canevaccio ecco qua lo copro lo lascio un po lento così però addosso ci metto qualcosa che lo tiene su in modo che non si allarga lateralmente però voi se avete un cestino tranquillamente nel cestino allora l'ho lasciato all'incirca due tre ore adesso il tempo preciso non ve lo so dire però quando sono tornata perché ero uscita vedete l'ho trovato bello gonfio ho fatto la prova a dito direi che è pronto da infornare lo tengo ancora un pochino il tempo che si scaldi bene il forno il forno l'ho messo a 250 con vapore poi piano piano l'ho girato con la parte chiusa in sotto mi sono aiutata scusatemi mi è saltata l'inquadratura e l'ho messo sulla pala sulla carta forno così poi faccio scivolare comunque vedete anche senza cestino si è tenuto abbastanza bene non si è allargato avete visto certamente se avrei aspettato di più avrebbe ceduto un pochino allora adesso con la mia lametta prima incido poi allargo metto la lametta per traverso però quindi devo tipo spellare così c'è anche chi alza il bordo in questo modo se volete proprio quella cresta da coniglietto ci faccio poi delle foglie delle foglioline così nel frattempo il forno sta arrivando a temperatura ecco qua ho le foglie bisogna fare i disegnini più leggeri il taglio invece bisogna affondare un per traverso ecco qua il nostro filone è pronto ora io lo farò scivolare sulla teglia calda oppure sulla pietra se volete allora il mio forno ha il vapore incorporato quindi all'inizio do due spruzzi di vapore programmo per i due spruzzi ma se non avete questa funzione nel forno con uno spruzzino spruzzate bene all'inizio oppure mettete un pentolino con l'acqua che toglierete poi e dopo 20 minuti eccolo qua seguiamo la cottura vedete si si è aperto si sta alzando molto bello questa farina da ottimi risultati vi ho messo le descrizioni perché poi dipende molto dai vostri forni io procedo così ma valutate voi anche ad occhio ecco qua una volta cotto lo tiro fuori lo metto in piedi in questo modo si asciuga meglio esce il vapore in alto naturalmente lo metto su una gradella ancora lo lascio fino all'affreddamento prima di tagliare come vedete almeno dall'esterno è molto si presenta molto bene il pane è sempre un'incognita quindi quando andiamo a tagliare poi valutiamo se abbiamo fatto tutto per benino se ci sono gli alveoli giusti se con le pieghe abbiamo chiuso bene quindi tagliamo ben cotto a noi piace ben cotto allora non taglio a metà perché ne do un pezzettino a mio figlio così ecco qua devo comprare un coltello nuovo beh direi che va bene per il tipo di farina che abbiamo usato va bene forse quel buco un pochino diverso dagli altri dove ho fatto la chiusura quindi ecco perché bisogna sempre chiudere bene però io direi che benissimo il profumo si sente un profumo favoloso questa farina eccezionale è venuto anche il coniglietto e che vogliamo di più non ci resta che fare una bruschetta e mangiare ciao a tutti amici